Il 2020 rappresenta un significativo traguardo per la Regione Piemonte. Ricorrono infatti due importanti anniversari, il cinquantesimo dell'istituzione della Regione Piemonte e il quindicesimo anniversario della promulgazione dello Statuto regionale. 50 anni di storia che hanno un sapore di prospettiva, secondo il Presidente Alberto Cirio, che aggiunge la sfida è quella di creare maggior senso delle istituzioni nelle generazioni future. Dobbiamo trasmettere loro valori superiori e far capire che le istituzioni sono il loro comune, sono la loro regione, il loro Stato e che le istituzioni vanno difese. Vanno difese perché non sono del Presidente o di chi in quel momento le rappresenta, ma sono di tutti. Abbiamo sicuramente risolto in questi anni problemi che prima c'erano, abbiamo problemi che un tempo evidentemente non c'erano, però li abbiamo sempre affrontati e risolti con una tradizione di buon governo che ha caratterizzato tutti i comuni del Piemonte. Per l'occasione è stato creato un simbolo che intende rappresentare il progetto che Regione e Consiglio hanno intrapreso fin dalla loro fondazione, un percorso che racconta l'evoluzione di un'istituzione a cui partecipano tutti i cittadini di tutti i comuni piemontesi, 1181, citati nel fulcro del Marchio, il numero 50, come spiegato dal Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. Nella Sala del Consiglio di Palazzo Lascaris è stato presentato inoltre il fitto calendario di iniziative che si svolgeranno durante l'anno, di fronte ad autorità civili, militari e religiose, rappresentanti del mondo dell'imprenditoria e delle istituzioni locali. Gli eventi in programma saranno costantemente aggiornati sul sito della Regione Piemonte e del Consiglio regionale. Torino Capitale è stata la prima capitale del nostro Paese, il primo Senato ce l'abbiamo davanti al Palazzo del Governo regionale. Questi sono messaggi che dobbiamo trasmettere ai giovani, trasmettere ai ragazzi, perché sappiano che le istituzioni sono il giusto, che la divisa è il giusto, che i carabinieri sono il giusto, che l'esercito è il giusto, che la bandiera tricolore è il giusto. Ecco, questi valori si trasmettono con momenti partecipativi come quelli che noi vivremo nel 2020.